Uno che comunque ha qualità non è mai disinvolto, questa televisione qui ha fatto credere che basta la disinvoltura per essere bravi, invece la disinvoltura non c'entra niente con la bravura, sei solo disinvolto e basta, ma sei superficiale, invece la gente pensa, uno fa l'attore ed è disinvolto, perché siccome non c'è una cultura dell'attore, l'attore è una persona un po' particolare, è molto timido in realtà, non è di facile approccio e quindi questo è il vero problema, perché gli italiani pensano che se tu sei un attore devi essere un attore nella vita, non c'entra niente, perché come sai meglio di me, se tu hai il talento, alla fine sembri anche bello, anche se non lo sei, è il contrario, se sei bello, ma sei vuoto, non sai ne esprimi nulla, diventi quasi brutto, invece la gente pensa che un'attrice è la c***a, cioè che uno deve essere un metro e ottanta, bionda, con un culo grande così per essere un'attrice, no, quello è un cesso, cioè quello è una proprio che è il contrario di un'attrice, cioè è tutto meno che un'attrice. Grazie a tutti.